anche per voi deve essere dura la ringrazio infinitamente ma che cos'è questo suono sono rane bue non c'è da spaventarsi Ah, una lucciola! Forza, prova ad acchiapparla! Ah, l'hai spiaccicata! Ma cos'è? Che odore è strambo! È perché hai strizzato la presa! Ma ce n'è una miriade di luccioli! Grazie per la visione!